Un graphic designer è un comunicatore, qualcuno che prende le idee e dà loro una forma visuale affinché gli altri le possano comprendere. Questa frase apre Design Elements, il graphic Style Manual di Timothy Samara e penso che renda bene l'idea di che cosa dobbiamo fare quando realizziamo supporti visivi. Anche noi abbiamo un messaggio da comunicare, dei concetti, e dobbiamo dargli una forma visuale affinché siano più semplici da comprendere per il nostro pubblico. Questo non significa che dobbiamo diventare dei designer, degli artisti o dei grafici. Dobbiamo però comprendere alcuni principi di design di base che sono fondamentali per avere dei supporti visivi davvero efficaci. Per chi vuole approfondire ovviamente ci sono un sacco di libri, quello di Samara,